Il padre Pino Pulisi era un prete, possiamo dire paradossalmente prete prete, un sacerdote che ha rispinto le facili etichette che ancora oggi a volte si sentono dire prete antimafia, prete antidroga, era un prete. Devono capire, devono capire che non si permette uccidere innocenti, io ho detto una volta non uccidere non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio, popolo siciliano, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Giovanni Paolo II era un grande profeta che non aveva paura di innescare movimenti sociali diciamo di rivolta, in un certo senso lui voleva una solidarnoche contro la mafia, ma non a livello politico, a livello di ripresa di coscienza sociale e molti dicono che l'assassinio di Puglisi fu la risposta mafiosa al discorso di Giovanni Paolo II, è una tesi che alcuni sostengono, una tesi che può avere alcuni suoi fondamenti, ma io direi che Puglisi anticipava e incarnava il modo pastorale di lottare contro la mafia.